Via Duomo 250 incontriamo l'outlet di Francesco Martone di fronte a San Gennaro. Abbigliamento per bambini, una grande impresa per una grande possibilità di vestire i vostri figli nel modo migliore. Vi presento l'attività, andiamo a vedere. Chiusi in fondo al cuor, nel sonno ci sembran veri e tutto ci parla d'amor. Se credi chissà che un giorno non giunga la felicità, non disperare del presente, ma credi fermamente e il sogno realtà viverà. Se il mondo soffrirti fa, non debiti sperare, ma chiudi gli occhi per sognare e tutto cambierà. I sogni sono desideri, chiusi in fondo al cuor, nel sonno ci sembran veri e tutto ci parla d'amor. Grazie a tutti.